Ciao bambini, oggi sono di nuovo qua con voi per presentarvi un nuovo percorso super divertente in cui simuleremo la vostra coordinazione e il vostro equilibrio. Siamo pronti a vedere? Adesso vi mostro il nostro percorso. Guardate un po'. Eccoci qua. Facciamo tutto il nostro percorso. Prendiamo la pallina, la mettiamo sopra il nostro cucchiaio, cerchiamo di tenerla in equilibrio, facciamo il percorso con un bello slano e possiamo utilizzare una sedia, non so, qualsiasi cosa voi abbiate in casa, uno scapello per saltarci sopra oppure passarci sotto come volete. Adesso, visto che il percorso sta diventando un po' più facile e a forza di farlo, provate a far saltare le nostre carce appallontolate sul nostro cucchiaione e riprenderla a volo. Provateci anche voi, è divertente. E se cade, pazienza. Ed eccoci qua, divertente, no? Molto. Filatevi di me. Provate e prendete più oggetti possibili, quelli che avete a disposizione. E divertitevi come mi sono divertita io. Buon divertimento. Un bacione. Ciao. Ciao.